Bentornati sul canale, nel video di oggi vediamo la configurazione di un tablet Android da utilizzare come pannello di controllo installato a muro per OpenHub. Il tablet utilizzando un software per Android chiamato Hub Panel Viewer visualizzerà in modalità full screen le pagine che abbiamo creato nei video precedenti. Hub Panel Viewer oltre a rendere agevole la modalità full screen permette l'invio delle informazioni di stato del tablet verso OpenHub e permette a OpenHub stesso di inviare dei comandi verso il tablet. In questo modo possiamo creare delle regole per automatizzare alcune operazioni utili al pannello di controllo come ad esempio la gestione della ricarica della batteria oppure l'attivazione e la disattivazione dello schermo. Andiamo quindi a vedere l'installazione della configurazione di Hub Panel Viewer partiamo quindi dall'installazione di Hub Panel Viewer qui a video vedete la pagina di github del progetto purtroppo è un progetto che al momento è fermo lo sviluppo è stato fermato dal dal suo sviluppatore però diciamo che per quello che serve a noi al momento le funzionalità sono tutte valide è uscita l'ultima versione a fine 2021 la 0927 che è compatibile con OpenHub 3 quindi sicuramente installeremo quella il pacchetto di installazione si trova o su fdroid che è uno store praticamente un repository di pacchetti android che va in parallelo al al play store ufficiale oppure si possono scaricare direttamente gli apk da installare sul tablet quindi se adesso andiamo a vedere sulla pagina di fdroid abbiamo la descrizione del del progetto il link per scaricare fdroid sul tablet e le versioni disponibili nel nostro caso useremo la 0927 che è quella compatibile con openhab 3 e abbiamo anche la possibilità di scaricare direttamente la pk da installare direttamente sul tablet torniamo sulla pagina di github vediamo la documentazione così in maniera sintetica per vedere che cosa è possibile fare con questo software oltre vabbè le impostazioni di configurazione che poi vedremo quando lo andremo a installare sul tablet abbiamo la possibilità di controllare il dispositivo quindi controllare il tablet mandando dei comandi da openhab quindi fondamentalmente openhab sarà in grado di scrivere dei comandi su un item di tipo stringa questi comandi verranno interpretati da hubpanelviewer che li manderà in esecuzione quindi abbiamo la possibilità di riavviare il software di accendere lo schermo mantenere lo schermo sempre acceso senza farlo andare in stand by eccetera eccetera ci sono tutta una serie di comandi che in base al caso d'uso possono tornare utili oltre ai comandi più sotto dovrebbe esserci ok c'è la possibilità invece di far inviare dal tablet verso openhab delle informazioni di stato del tablet stesso in base poi al tablet e ai sensori che ha alcune di queste sono utilizzabili altre no nel mio caso io penso che andrò a utilizzare la batteria e penso basta per adesso poi potrebbe essere utile l'informazione se lo schermo è acceso spento se l'applicazione è usata oppure non c'è nessuno che la sta usando e altre altre cose che man mano che serviranno andrò ad implementare quindi ad esempio prendiamo il caso del battery reporting quindi l'informazione sullo stato della batteria abbiamo a disposizione 4 informazioni che sono un contatto che mi dice che viene attivato su openhab quando la batteria va in uno stato di basso bassa carica poi abbiamo un altro contatto che viene attivato quando la batteria va in carica quindi quando il tablet viene è in stato di ricarica poi abbiamo un livello di batteria e poi nel caso in cui il tablet è predisposto abbiamo anche la possibilità di ottenere le informazioni sulla temperatura della batteria quindi semplicemente su openhab si andranno a definire degli item di tipo contact o number in base al tipo di informazione che si vorrà utilizzare e su hubpanelviewer si andranno a configurare questi nomi di item spostiamoci adesso sul tablet e andiamo ad installare hubpanelviewer proviamo tramite fdroid quindi installando prima fdroid e nel caso non riuscissimo a trovare la versione corretta installeremo direttamente la pick up utilizzando il link che abbiamo visto prima eccoci sulla home del nostro tablet andiamo sul browser dove io ho aperto già la pagina di github di hubpanelviewer a questo punto seguo il link di fdroid e vado a scaricare fdroid ecco che l'abbiamo scaricato adesso lo installiamo cliccandoci sopra bene terminata l'installazione ci troviamo fdroid nell'elenco dei programmi lo lanciamo attendiamo un attimo che si sincronizza ok ci ha messo un po ma ha completato tutti gli aggiornamenti adesso quello che dobbiamo fare è andare a cercare con la lente di ingrandimento l'applicazione che interessa a noi quindi scriviamo hubpanel vediamo se basta così ok l'ha trovata ci clicchiamo sopra vediamo un po che versione ci propone 0 9 27 perfetto a questo punto installiamo e aspettiamo che completi l'installazione ok installazione completata adesso possiamo cliccare su apri e lanciamo l'applicazione ok andiamo avanti sul tutorial ok qui ha identificato il mio server di openhab quindi io lo scelgo il primo tanto in locale non uso l'https andiamo avanti e dovremmo essere a posto vediamo un po se allora qua ci dice che abbiamo il risparmio batteria attivato l'ottimizzazione delle batterie attivata per l'applicazione quindi bisogna disattivarla per far sì che funzioni correttamente quindi andiamo a cercare qui in ottimizzazione batteria l'applicazione 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 andiamo a togliere ok cerchiamo tutte le app eccola qua uso della batteria ottimizzato mettiamo non ottimizzare a questo punto torniamo indietro ok qua salto pure questo step tanto non mi interessa mettere le credenziali crittografate e vediamo se adesso ci carica openhab ed ecco la nostra home page di openhab e direi che per questo video siamo a posto nel prossimo video vediamo la configurazione dell'invio dei dati dei stato del tablet e della ricezione dei comandi è un minimo di ottimizzazione grafica